Buongiorno amici, bentornati sul nostro show, stagione 3 del Bet Italia Web Daily Show, non poteva iniziare meglio perché abbiamo fatto un all green ieri 2 su 2, un grande inizio di 2021 e abbiamo ancora aperto una bella multipla di Darius a 2,15 di quota che potremmo chiudere questa sera. Quindi grande inizio della terza stagione, siamo solo alla seconda puntata ma è già l'ultima della settimana perché siamo al venerdì e come ogni venerdì c'è lo studio di D'Artagnan su tutte le partite di Serie A e le free pick che ci accompagneranno anche nel fine settimana, da oggi a domenica, in verità a lunedì perché c'è la multipla di Serie A che arriverà fino al posticipo del campionato di calcio tra Spezza e Samp, vi daremo in tutto 7 free pick. Prima una cosa veloce sul golf perché Justin Thomas ed Harry Zinglish sono al comando dopo il primo giro del PGA Century a Capalua, molto bene visto che Justin Thomas era uno dei nostri favoriti e ve l'ho dato anche ieri in free pick qui sul podcast, mentre Harry Zinglish è uno dei nostri long shot a 36 di quota, ieri vi ho dato Smith come quota alta però nel VIP di Betting Maniac dove trovate tutte le giocate anche sul golf avevo dato anche Harry Zinglish, è ancora lunghissima però siamo partiti quanto meno bene con i primi due che sono entrambi nelle nostre selezioni e hanno chiuso entrambi a meno 8. oggi c'è il calcio in Bundesliga e come detto lo sappiamo bene visto che tifiamo l'over 2,5 tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco, c'è anche Selta Vigo Villareal anticipo di Liga, si continua a giocare in Portogallo con 4 partite di Primeira e ci sono anche due interessanti sfide di FA Cup in Inghilterra, se non sbaglio a Aston Villa Liverpool, era più interessante però leggevo che la Aston Villa dovrebbe giocare con molti membri delle giovanili, forte turnover anche per il Liverpool che ha già tante assenze quindi abbiamo deciso di lasciare stare queste partite. C'è anche il tennis, oggi Antaglia ha debuttato vincendo il nostro Berrettini, in mattinata c'era in campo anche Fognini, non ho visto quanto ha fatto alla fine nel tardo pomeriggio in serata si gioca anche l'ATP di The Ray Beach negli States e poi c'è il WTA ad Abu Dhabi per quanto riguarda il tennis femminile Notizia dell'ultima ora, Roger Federer non giocherà agli Australian Open per stare vicino alla famiglia Basket Eurolega, 4 partite in programma ma oggi è il giorno di Real Madrid, Olimpia Milano, dopo aver tenuto testa al Sesca Mosca cedendo solo al termine del supplementare l'Olimpia cerca l'impresa sul campo del Real che è primo in Liga, 16 vittorie e una sconfitta le uniche partite che il Real ha perso dal 20 di ottobre a oggi sono quelle contro Barcellona e Sesca l'ultima squadra oltre a queste due capaci di battere le merengues fu proprio l'Olimpia Milano che il 16 ottobre scorso batte il Real al Forum con il risultato di 78-70 e le grandi prestazioni dell'ex Sergio Rodriguez e di Shevon Shields oggi c'è anche l'Hockey KHL, 5 partite al Via dalle 12.30, l'altro blocco è partito alle 15 quindi oggi niente giocate di hockey con Insider che però ci darà una doppia sull'Eurolega vediamo i risultati di ieri perché come detto grande avvio di stagione 3, non potevamo iniziare meglio due casse su due più 171 euroi aspettando la tripla, 2.15 di quota di Darius dove abbiamo già incassato le prime due giocate che erano una di tennis, adesso non ricordo il nome del tennista che avevamo preso vincente di almeno un set e addirittura è andato a vincere 2-7 a 0 se non sbaglio e poi avevamo preso l'overino di calcio in Turchia con il Fenerbahce che è entrato quindi questa sera tifiamo per almeno due reti, almeno tre reti nell'anticipo di Bundesliga tedesca e siamo partiti benissimo anche con le giocate nel premium che vi ricordo da oggi trovate nel VIP di Betting Maniac assieme alle mie giocate, alle giocate di Morfeo sugli Sport USA, c'è il calcio sudamericano di Striker ci sono le giocate di basket, hockey e volley europeo di Insider e ci sono le tips con il drop di quota i flussi di mercato dei report fatti ogni mattina dalla nostra redazione tra l'altro sono gli ultimi giorni della promozione natalizia che scade domenica lo dicevo non siamo come quelli di poltrone e sofà che poi la rifanno ogni domenica domenica finisce la promozione che vi fa entrare col 50% di sconto fino al 31 marzo 2021 quindi vi beccate un botto di roba, tre mesi praticamente circa 10 euro al mese di meno credo che non possiamo chiedere con una redazione e quattro tips dal lavoro ogni giorno, tutti i giorni sabato, domenica e feste comprese e ormai non ci stiamo più perché a proposito di Insider che come detto anche lui è stato inserito nel VIP dei betting mania che è arrivato a 14 casse di fila 18 casse e un solo errore nelle ultime 19 chissà se riusciremo ad allungare la striscia vincente oggi perché come detto ci dà una giocata di Eurolega Sport americani ne parliamo adesso perché ieri ho dato una doppia di NBA Portland meno 3,5 e Denver più 3,5 in doppia 1,79 Jokic e i Nuggets forzano l'overtime all'ultimo secondo e Denver perde di 7 altrimenti avremmo incassato quindi maledizione bastava che la perdessero di 2 nei tempi regolamentari senza questo overtime siamo veramente veramente sfigati come pochi in questo avvio di NBA però nel VIP abbiamo ripreso qualcosa con Gary Harris over 8,5 punti l'avevo confermato l'avevo ufficializzato ieri sera dopo la conferma di Michael Porter Jr ancora out per Denver Harris ha chiuso con 15 punti e poi avevamo dato anche una tripla a 1,95 una tripla pro bet avevamo consigliato la doppia a doppia di Jokic che è entrata l'over 19,5 di CJ McCollum e qui siamo stati noi fortunati perché ha chiuso proprio al pelo con 20 punti e poi l'over 12,5 di Levert per i Nets e a proposito ieri Brooklyn proprio per capire quanto sia pazzesco e difficile questo inizio NBA con i pronostici specialmente handicap e testa a testa dicevo ieri Brooklyn ha battuto la squadra col miglior record NBA ovvero i Philadelphia 76ers nonostante l'assenza di Kevin Durant e si sapeva per il protocollo Covid ma anche senza Kyrie Irving notizia è arrivata mezz'ora prima dell'inizio della partita e le dichiarazioni dicono che non aveva voglia poverino quindi già è un casino bettare in questo avvio dove è un avvio con poca pausa diciamo con poca preparazione già è un casino così se poi ci si mettono anche queste notizie dell'ultimo minuto con Irving che non ha voglia di giocare non scende in campo allora è un casino vero 1-1 nel College Basket che invece continua ad andare bene ieri abbiamo giocato una doppia Iowa vincente in Maryland ed è passata senza problemi e abbiamo aggiunto anche Gonzaga miglior squadra della nazione l'avevamo presa a meno 9 e mezzo in casa contro un altro ottimo programma quello di Brigham Young che però non può nulla e ha perso circa di 20 la giocata sbagliata è un peccato perché eravamo andati su Moorhead State l'avevamo presa a meno 3 e mezzo Moorhead State ha vinto ma ha vinto solo di 3 contro i morti viventi di Tennessee Tech quindi è anche qui un punticino ci ha tolto l'all green programma sport usa di oggi ben 10 partite NBA ruba l'occhio Milwaukee contro Utah Giannis, Santeto Coppo e compagni sono favoriti con meno 6 punti di handicap e sono anche molto appoggiati dal mercato nella sfida interna contro Utah che sta faticando abbastanza in questo avvio nel College si inizia molto presto alle 18 italiane anche se i big match sono tutti dopo l'una di notte e in verità oggi non c'è nessun programma in top 25 del ranking nazionale impegnato visto che da questa top 25 è uscito proprio Michigan State che sta faticando molto ma che oggi è favorito in casa contro Purdue in questa sfida di Big Ten domani Wild Card iniziano i playoff NFL per il football americano con una nuova versione tra l'altro ci saranno 6 partite 3 sabato e 3 domenica Morfeo ha già dato le sue giocate nel VIP dove usciranno anche le mie da domani in serata inoltre ci sarà l'articolo con le info le ultime news, statistiche, consigli eccetera eccetera su tutte le partite dei Wild Card Game di NFL lo trovate sul sito di BetItalia web lunedì poi parleremo anche dell'atteso finale di College Football per il titolo nazionale tra Alabama contro Ohio State e va bene tornano gli studi di D'Artagnan questo è il primo della stagione 3 come sempre andiamo a vedere partita per partita le ultime dai campi le statistiche più interessanti e le quote di riferimento che però non sono giocate ufficiali sono solo consigli per le giocate ufficiali le vediamo nel blocco dopo allora si inizia domani alle 15 con Benevento Atalanta Inzaghi sceglie Caprari in signe con Lapadula in attacco nell'Atalanta rientra Romero viene confermato Toloi dietro nessuna squadra ha segnato meno del Benevento nella prima mezz'ora di gioco in campionato solo 3 gol arco di tempo in cui i Sanniti hanno anche la peggior difesa al pari del Crotone 12 reti subite nella prima mezz'ora qui l'idea è Atalanta segna per prima 1.33 sempre sabato alle 18 Genoa Bologna Ballardini conferma l'assetto delle ultime uscite nel Bologna Dominguez al posto dello squalificato Swanberg a livello statistico solo in due delle ultime 14 sfide tra Genoa e Bologna in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno il Bologna è la squadra contro cui il Genoa ha tenuto la porta inviolate in più incontri nel campionato, nella sua storia 27 partite senza subire gol contro i Felsini 18 delle quali in casa e il Genoa è con il Crotone una delle due squadre a non aver ancora tenuto la porta inviolate in nessuno degli incontri casalinghi di questa Serie A quindi andiamo contro questo trend supportati anche dal fatto che il Bologna arriva da 1-0-0 nell'ultima trasferta e qui l'idea è un gol no a 2-25 anche se vedevamo giusto ieri la miriade di gol-gole di over che stanno uscendo in questa stagione di Serie A sabato sera Milan-Torino Pioli conta le assenze Ben Nasser, Cialanoglu, Gabbia Ibrahimovic che non è ancora pronto Krunic, Rebic, Selemacher tutti assenti per i rossoneri nel Torino 3-5-1-1 con Verdi in appoggio a Bellotti in avanti per i Granata il Toro ha subito ben 20 gol nell'ultima mezz'ora di gioco almeno 6 in più di ogni altra squadra in Serie A in questo campionato il Milan ha subito 7 degli ultimi 9 gol in Serie A nei secondi tempi 5 dei quali nei primi 20 minuti di gioco dopo l'intervallo qui l'idea è secondo tempo con più gol a 2 Passiamo a domenica con il lunch match che è anche il big match più atteso all'Olimpico Roma-Inter Fonseca recupera Spinazzola nell'Inter Vidal dovrebbe giocare da mezz'ala Young a sinistra e Lukaku con Lautaro in attacco mentre D'Ambrosio starà fuori almeno un mese La sfida tra Roma e Inter è quella che ha visto più reti nella storia della Serie A a girone unico ben 503 gol in 174 precedenti l'Inter tende anche a iniziare male le partite a migliorare nei secondi tempi dall'altra parte la Roma ha segnato almeno 3 gol nel primo tempo in 3 partite di questo campionato quindi un dato davvero alto inclusa la partita più recente quindi qui l'idea è over 2,5 a 1,60 ma anche Roma segna per prima a 2,10 tra l'altro vi segnalo sta uscendo un betting focus sul nostro sito un betting focus statistico Roma e Inter hanno sempre pareggiato nelle ultime 5 sfide chissà se pareggeranno ancora comunque la nostra idea è vedere una partita con almeno 3 gol e soprattutto Roma segna per prima a 2,10 è una quota davvero di valore Passiamo a Parma, Lazio domenica alle 15 D'Aversa torna sulla panchina emiliana cambia diverse cose lo sappiamo, lo dicevamo ieri è stato esonerato Liverani si torna al 4-3-3 per i Ducali da valutare però Gervigno il Parma ha il peggior attacco del campionato e per la prima volta nella sua storia ha segnato solo 13 gol dopo le prime 16 partite stagionali davvero pochissimi con il gol di Caissiedo nell'ultimo turno la Lazio ha segnato 6 gol nel quarto d'ora iniziale di partita in questo campionato soltanto la Roma a proposito di Roma segna per prima ha fatto meglio finora e quindi le Romane tendono a partire forte anche qui Lazio segna per prima 1,44 qui oggi allunghiamo qui oggi sforiamo il quarto d'ora però l'ultima puntata del weekend con tutto lo studio lo sapete ci allunghiamo un po' di più Udinese-Napoli ore 15 Gotti perde anche Forestieri ha scelte obbligate davanti con Lasagna e Nesteroschi nel Napoli un paio di novità Isai a sinistra Petagna dovrebbe agire da punta centrale è da valutare invece Politano il Napoli non perde da 4 trasferte contro l'Udinese in Serie A 3 vittorie e un pareggio nel parziale tra l'altro Gattusa ha strigliato i suoi alla grande nell'ultima uscita chissà se si riprenderà appunto il Napoli l'Udinese ha raccorto un solo punto nelle ultime 8 sfide contro i Partenopei in Serie A ed è rimasta secco di gol in 4 delle prime 7 gare casalinghe segnando solo 5 reti in tutto c'è anche una grande rivalità tra le due squadre ovviamente non ci sono i tifosi del Napoli a seguito e non ci sono i tifosi allo stadio qui però l'idea è quantomeno l'X2 a 1,23 ma si potrebbe anche pensare al 2 fisso Verona Crotone sempre domenica pomeriggio Juric riperde veloce per quanto riguarda l'Ellas nel Crotone ancora Messias e Simi in attacco a livello statistico sotto la guida di Juric il Verona ha vinto tutte e tre le gare casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse segnando tra l'altro una media di 2,7 gol ad incontro qui l'idea è l'1x a 1,20 anche qui si può agire alzando la quota sull'1 fisso passiamo alle ore 18 di domenica Fiorentina Cagliari Prandelli rilancia Milenkovic dietro sono però out Ribery e Crastrovilli che è squalificato Quame dovrebbe fare coppia con Blauvic in attacco per i Viola nel Cagliari Simeone in vantaggio su Pavoletti ok Nangolan mentre non ce la fa rientrare Godin per i Sardi Fiorentina e Cagliari potrebbero pareggiare tre partite di fila in Toscana la Fiorentina tra l'altro ha pareggiato quattro gare casalinghe in serie A qui l'idea è il cipino il caffettino sul pareggio a 3,90 e andiamo a domenica sera alle 20.45 Juventus Sassuolo Pirlo potrebbe dare riposo a Danilo e a Betancur deve valutare Ronaldo nel caso non giocasse CR7 è pronto Kuluseschi con Di Bala anche Morata non dovrebbe essere rischiato nel Sassuolo invece Traore prende il posto di Berardi che non ce la fa recuperare la Juve ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo nella massima serie 10 vittorie e 3 pareggi completano il parziale ed è anche la squadra che ha battuto più volte i neroverdi nella serie A appunto tra l'altro con 35 gol subiti dagli Emiliani in totale solo contro l'Atalanta ne hanno subiti di più qui l'idea è Juve vincente a 1.33 infine il posticipo Spezia Sampdoria italiano sceglie dall'inizio Pobega e Ghiasi nella Sampdoria invece confermatissimi Candreva e Damsgaard che ità in vantaggio su Quagliarella per il ruolo di prima punta a livello statistico la Samp non tiene la porta inviolata da 18 trasferti di serie A e non fa peggio dal gennaio del 56 addirittura Blucerchiati e Spezzini sono due delle tre squadre assieme al Cagliari che hanno subito più gol da palle inattive in questo campionato 11 reti ciascuna qui l'idea è il gol-gol a 1.66 e ora veniamo alle picche ufficiali come detto sono 7 più la tripla di Darius che abbiamo già dato ieri che si completerà questa sera non stiamo a ripeterci iniziamo quindi dalle giocate di oggi con D'Artagnan che ci dà una doppia mix sui campionati più interessanti in campo questo venerdì ovvero Bundesliga e Primera Liga Portoghese doppia mix a 2.28 giochiamo sulla vittoria del Bayern Monaco in casa del Mönchengladbach e anche sulla vittoria dello Sporting contro il Madeira andiamo quindi sulle due favoriti in trasferta in Germania e in Portogallo il Bayern è primo in Bundesliga ha vinto le ultime tre partite e aggiungiamo anche la vittoria dello Sporting sul campo del Nacional Madeira che arriva da una vittoria ma prima ne aveva perso tre di fila è a centro classifica mentre la squadra di Lisbona è al comando è ancora imbattuta in campionato con dieci vittorie e due pareggi ed è una delle squadre più in forma del momento tra l'altro sette vittorie e un pareggio negli ultimi precedenti dello Sporting contro il Nacional come seconda giornata giocata sempre per oggi sempre con D'Artagnan ci spostiamo in Spagna Celta Vigo Villareal Villareal più zero e Jean Endicap a 1,62 ovvero rimborso in caso di pareggio D'Artagnan non vuole rischiare il due fisso visto la trasferta però si aspetta la vittoria del Villareal che è in lotta per le posizioni che contano per la Champions il Celta è sei punti dietro arriva dalla sconfitta contro il Real a Madrid e soprattutto pesano le assenze i padroni di casa sono senza Iago Aspas e Tapia e probabilmente non ci sarà nemmeno Nolito quindi per il Celta non sarà facile il sottomarino giallo tra l'altro ha già vinto nell'ultimo viaggio qui sul campo del Celta de Vigo terza giocata di oggi ci spostiamo con Insider sulla doppia di Eurolega di basket a 1,84 Olympiacos Bayern Monaco Bayern più 10,5 e Real Madrid Olimpia Milano Olimpia più 10,5 in pratica andiamo sulle due squadre sfavorite in trasferta ma le prendiamo con più 10,5 punti speriamo quindi che non perdano in doppia cifra Insider ci dice che per quanto riguarda il Bayern la squadra di Trinchieri potrà giocarsene in Grecia contro un avversario che tra l'altro ha già battuto all'andata a Monaco stesso discorso per l'Olimpia la trasferta a Madrid è davvero difficile bisognerebbe fare un'impresa però il Real è vero che sta andando forte però ha anche molte assenze e l'Olimpia ha già fatto faticare il Sesca ed è una delle poche squadre come dicevamo prima che ha già battuto il Real all'andata andiamo avanti spostiamoci sulle partite che iniziano domani iniziamo con le giocate di D'Artagnan non vi sto chiaramente a ripetere i perché delle giocate perché sono tutte pick prese dallo studio che abbiamo appena discusso allora iniziamo dalla classica multipla la nostra consueta multipla l'ultima non l'abbiamo presa per una sfiga assurda lo dicevamo ieri avevamo l'1x primo tempo del Cagliari che in tre minuti dal 41esimo al 44esimo ha preso due gol al Benevento vabbè oggi andiamo con una multipla 3-25 sempre stake 0-5 investimento più basso ovviamente 4-20 Genoa-Bologna under 3-5 Roma-Inter over 2-5 Udinese-Napoli X2 e Spezia-Sandoria over 1-5 come seconda giocata sulla Serie A un'altra doppia 1-91 di quota questa volta stake standard Benevento-Atalanta andiamo con Atalanta segna per prima e stessa giocata in Parma-Lazio Lazio segna per prima quindi speriamo che le squadre in trasferta aprano le marcature in queste due partite non impossibili diciamolo sulla carta e vediamo anche la singola di Serie A come dicevamo prima Milan-Torino secondo tempo con più gol a 2 di quota è molto interessante e chiudiamo con l'ultima giocata anche questa molto interessante è un azzardo però lo prendiamo a stake pieno Roma-Inter Roma prima squadra segnare a 2-10 lo prendiamo a stake pieno perché è comunque una quota così di valore che anche se è un azzardo e lo sappiamo tutte le statistiche tutte le quote il valore della quota eccetera ci spingono a fare una giocata con investimento base appunto va bene siamo arrivati alla fine noi ci ritroveremo lunedì con il podcast e con le nostre giocate e ovviamente continueremo a lavorare sui nostri canali telegram instagram sul sito eccetera eccetera sia oggi che per tutto il weekend usciranno le giocate di sport americani insomma non ve lo ripeto continuate a seguirci noi ci ritroviamo lunedì dopo pranzo io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata e un buon weekend fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa ciao